In un quartiere popolare di Cagliari c'è una signora che con il suo furgoncino aiuta famiglie e anziani con difficoltà portando la spesa a domicilio. Antonello Lai. Vedete questo furgoncino? Bene, è il furgoncino di signora Maria, che noi chiameremo affettosamente Zia Maria. Buongiorno. Buongiorno. Lei fa un mestiere strano, cioè è quasi un'assistente sociale per questo quartiere popolare che è il CEP. Sì, diciamo con piacere lo faccio finché lo posso fare. Che cosa fai? In che cosa consiste questa sua attività? Consiste che faccio un po' domicilio a queste persone che non hanno la possibilità di uscire, non sono in grado, non hanno nessuno, per dire magari famiglia è una coppia che marito e moglie non possono uscire, non sono in grado di gestirsi da sole. Novantenne, ottantacinquenne. E quindi se hanno bisogno mi chiamano. E lei viene qua col furgone? Col furgone. Arzia Resi Scalas. Ah sì, a volte anche tre, quattro volte, quattro piani, tappiedi. E quindi porto quello che mi chiedono, diciamo così. Nascono chiaramente amicizie. Sì, le amicizie ci sono da tanti anni. E a volte viene qua anche senza dove fare la spesa? Anche per niente. Sto per trovarle? Sto per trovarle, sì, sì, sì. Quello che mi chiedono, hanno bisogno anche di comprare il pane, una scatola di uova, vado e gliela prendo, cioè tranquillamente. Perché vado per me, quando vado per fare la spesa per me, al supermercato, le porto alla spesa anche per loro. E come si dice, tutto baratto? Tutto baratto. A prezzo di costo. Quello che si può, sì, di guadagno c'è poco e niente, non c'è. Grazie Sia Maria. Di niente. E continuo. Grazie. Speriamo con la salute che di poterlo fare ancora.